bentornati ragazzi buongiorno 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 buon pomeriggio sono le tre e mezzo di pomeriggio se stiamo a mangiare uno spaghetto uno spaghetto con il pomodoro fresco pomodoro fresco aglio senza stare a girarci intorno qua stiamo a lavorare ho montato un po di video è il primo giorno di relax puro da quanto un mese mesetto cioè ragazzi un mese un mese passati svezia si abbiamo avuto momenti bellissimi assolutamente abbiamo passato tre giorni con gli ali spettacolo però a livello di insetti e di relax è il primo giorno io sto cercando di guarire voglio farvi vedere in che condizioni ho le gambe perché a parole ragazzi non rende a parola non rende e anche le gatte si stanno riprendendo ma oggi ufficialmente il primo giorno di relax stanotte abbiamo dormito senza il fruscio delle zanzare stamattina siamo alzati zero zanzare moschini neanche l'ombra e ci siamo veramente veramente rilassando volevo farvi vedere la differenza tra una persona intelligente e una persona stupida le persone intelligenti fanno il picnic ovviamente questo è un parco attrezzato c'è tutto che è quello fondamentalmente gli siamo arrivati ieri come vedete c'è gente che comunque ha preso il kayak si è andata a fare al lago le gire passeggiate questi qui danesi sono circa 6 7 persone si sono visto bene di passarsi la giornata a farsi il picnic nulla di male vabbè si sono prese praticamente tutte le panchine non è un problema perché tanto noi siamo attrezzati e il resto della gente non fa picnic la cosa più assurda è che si sono appropriati anche dei cestini cioè praticamente ha messo la griglia stanno grigliando adesso sono andati al lago perché hanno finito di mangiare alla fine due salsicce in insalata se mancano questi e guardate lì sopra i cestini ma una roba incredibile ma io dico ma cestino a parte che schifo dai ti metti a cucinare sopra i cestini primo ma seconda cosa non ti viene il dubbio che qualcuno deve buttare un non so un bicchiere una lattina qualcosa no e se ne sono andati e cosa devi farci ragazzi dicono che il mondo è bello perché ha variato perché è vario no per me ha variato ve lo posso garantire ci vorrebbe una selezione a monte di queste cose qua però purtroppo non ci può fare niente detto questo stiamo chiarando il pomodoro fresco bisogna dare giusto una sbollentata così ok e noi siamo qua tutto il giorno oggi più tardi finalmente ora che siamo riposati ci facciamo una passeggiata al tramonto e niente domani mattina andiamo da questo ricambista land rover speriamo che legge a casa le pastiglie per pacchi anteriori e altrimenti le ordiniamo però qui siamo tranquilli con tutto ciò che comunque è arrivata un sacco di gente ma la gente non sta qui se ne va al lago quindi noi siamo tranquilli e niente poi io monto video perché in questo mese in svezia ragazzi abbiamo accumulato tanto materiale ma non avendo la tranquillità la pace la serenità di fermarsi in un luogo a montare o no cioè io se ho montato penso tre video in un mese c'è tanto roba che io tre video li monto in due giorni quindi vabbè dai c'ho una fame e mangiamo poi stasera stasera invece entra in gioco il nostro amico fuoco abbiamo messo la legna al sole perché perché stasera bruschette colozzola le ho mangiate una volta io non le avevo mai assaggiate la moira mi ha fatto una bruschetta colozzola che mi sono innamorato quindi stasera bruschettiamo andiamo 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 passeggiate ragazzi passeggiate al tramonto campi di grano questo non è un lago ragazzi non è un lago ma è un mare adesso magari vi metto in descrizione il nome è un'insenatura interna che può sembrare un lago ma su in cima c'è un pezzo dove viene collegato al mare non è un'insenatura interna è un posto veramente veramente magnifico in mezzo ai campi di grano c'è questo sentiero che porta penso sulla sponda siamo veramente contenti siamo veramente contenti tranquilli per una volta non dobbiamo veramente combattere con zanzale moschini taffani e ripeto può sembrare una banalità ragazzi ma noi vediamo all'aria aperta e quindi quando incontriamo queste gravi difficoltà all'aria aperta per noi e per le nostre gatti è un disastro ma infatti lo vedi anche loro adesso stanno molto più volentieri fuori prima fuori non ci volevano stare e va che roba che spiaggetta in questo parco ieri ci siamo dimenticati poi di farvi vedere che ci sono gratuitamente a disposizione anche due biciclette una per signora col cestinetto in bimini davanti e una per i maschietti sono ferme là vicino alla casetta se uno le vuole utilizzare può prenderle in tranquillità e sull'altra sponda invece là dove ci sono quegli alberi c'è una canoa casetta dove puoi dove puoi prenotare spiega questa cosa che è interessante allora c'è un regolamento dentro questi piccoli rifugi che vi avevamo fatto vedere all'inizio e dice che c'è un sito dedicato sul quale puoi riservare la tua giornata la tua nottata qui in questo parco dentro questi rifugi e quindi avendo la riservata con internet su internet tu hai la precedenza su chi può campeggiare qui in questo caso per esempio stanotte c'era un signore ha dormito dentro la casettina col suo sacco a pelo e tutto quanto e l'ha vissuta come fosse casa sua per una notte insomma non paghi niente ovviamente è gratuito è gratuito la cosa incredibile la cosa incredibile è che è gratuito è quello che mi lascia mi manda fuori di matto perché da noi comunque vada anche solo 5 euro te l'avrebbero chiesta qui c'è un'altra spiaggia ti dicono vuoi usarlo usalo ti danno la legna ti danno la griglia come avete visto è gratuito quindi servizi a manetta ma l'avevamo già detto ai video dell'andata è un paese da scoprire è un paese da visitare si 1300 chilometri e passa la paura da milano sono 1300 chilometri guarda dove si mette ti metto i numeri del soccorso quindi sos 112 e gli dai il riferimento che è quel j520 in caso tu abbia dei problemi c'è più di così veramente e se vi state chiedendo a francesco è in mutande come sempre come sempre però vabbè se non vi sta bene pensate che siano dei costumi è un costume mutandero è un costume mutandero via no era veramente settimane che non mi sentivo così in relax eh da quando eravamo alla spiaggia dai dovevi sempre costantemente coprirti e questa cosa qua ce la porteremo avanti ancora per qualche giorno perché adesso appena senti qualcosa che ti sfiora la pelle panico e invece magari è una farfalla però spesso tre quattro giorni siamo diventati insetto fobici credo di sì insetto fobici torniamo indietro cavoli di là era anche più bello guarda guarda le ocche non so se si vedono sono piccole piccole ma quanto tramonterà secondo te che sono sei tu il cellulare sono le 20.07 che bello però è giusto per farvi capire una cosa in svezia non esisteva stare così stare in calzoncini no ma non potessi stare così aspettando a quest'ora poi dovrei coprirti eppure qua siamo nelle erbacce eh sì 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 tutte le jeans più ne ha più ne metta ma così non potevi stare eppure fa molto più caldo di là che qua eh sì e qua oggi ho fatto 25 gradi di là e facevano anche 30 sì sì che figata altra spiaggetta hai capito tutta la gente oggi dove era bello neanche a dirlo ci arriviamo già al camperista alle calcagna lì sarà penso 4 metri con tutto il parcheggio libero si è messo praticamente a 4 metri dalla tenda mamma che se io stasera io e la moglie dobbiamo fare i fuochi d'artificio a morte devi stare zitta eh capito? in silenzio silence no è assurda sta cosa veramente ma io dico ma sei arrivato ma con tutto il parcheggio che c'hai ti devi mettere attaccato a noi vabbè ma non lo dico per qualche cosa lo dico perché noi non lo facciamo cioè se io vado in un posto guarda l'altra sera quando mi hanno dormito che diluviava ma non mi dica di questione di sicurezza perché qui puoi lasciare la macchina aperta no no perché sai la gente scrive no ma lo fanno perché si sentono più sicuri nei posti ci sta così sono d'accordo ma qui ragazzi siamo in Danimarca qui non esiste la delinquenza non esiste non esiste ed è la targa danesa perché le targhe danesi le riconosci perché c'hanno il bordo rosso quindi non capisco ma poi con la loro finestra rivolta proprio verso di noi quindi privacy loro zero privacy noi zero no aspetta loro la privacy ce l'hanno perché come hai visto si chiudono dentro tende tendine super blindature loro si chiudono dentro però noi non lo facciamo noi se arriviamo a una piazzola e lo spazio è grande comunque vada 9 su 10 ce l'andiamo e ci cerchiamo un posto appartato stop però siamo obbligati come l'altra sera che diluviava stavamo venendo via dalla Sversa comunque stati lontano si 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 c'era sta piazzola dove c'erano già 3, 2 vanne e un camper beh non ci siamo messi lì erano tutti e 3 attaccati tin 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 non mi metto non mi metto qui assolutamente mi ha fatto 50 metri mi ha trovato una rintranza e ci siamo messi lì tranquilli e non è questione né di appunto sicurezza né di socializzazione come qualcuno ha detto perché? perché se venissero da noi mentre siamo seduti fuori lì a chiacchierare quella è socializzazione quella perché la socializzazione è quella che facevano i miei in campeggio quando facevano ste tavolate da 50 persone allora ci sta ma che la gente si mette uno di fianco all'altro ognuno dei due si fa i cazzi propri quella non è socializzazione quello è stare non so è una cosa complessiva noi non riusciamo a dare una risposta e neanche voi riuscite perché ripeto non è un discorso di sicurezza non è un discorso di sicurezza ragazzi perché qui non esiste non esiste la delinquenza quindi non lo fanno per sicurezza adesso arriviamo al grano guarda che campi di grano allora rientriamo verso la macchina così Francesco accende il fuoco si lava aspetta dobbiamo studiare il modo di come nasconderci perché ci abbiamo facciamo come facevano una volta ti metto l'asciugamano intorno e ti lavi io più furba mi sono lavata ovviamente appena tutti sono sloggiati comunque eccola lì la nostra macchinina bellissimo bellissimo sto posto nuova tecnica a ventaglio ho messo a ventaglio dove l'hai imparato? da questo lato ho visto un tutorial online se vieni da questo lato lo vedi bene il ventaglio ho visto un tutorial survivor mettete un bastone più grande sotto e mezzo e poi quelli più piccolini quelli più piccolini li mettiamo sopra teoria così dice che dovrebbe prendere molto meglio e più in fretta allora dai dobbiamo vedere sempre ben distanziati i pezzi l'uno dall'altro usiamo sempre la corteccia di betulla io ora devo ricostruirmi devo rifarmi la cosa assurda si è già rotto il coltello che ho preso a Bill Tema gli ho dato una martellata qua sopra per sbaglio e l'ho rotto gli ho rotto il manico la cosa assurda è che la lama è spettacolare la lama è fatta veramente bene cioè hanno risparmiato praticamente sul materiale gommaccia questa allora visto che si può smontare lo smonto e vedrò se riuscirò a farmi a farmi un manico vediamo un po' perché il coltello è veramente funzionale 30 euro ragazzi cosa volete per 30 euro c'è persino l'acciarino incorporato per accendere il fuoco amo sta morendo il fuoco sta morendo? si aspetta 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 che calma stai calma va che prende ma dove? va che prende vai tranquilla dagli tempo guarda che riga il ventaglio si chiama guarda come sta prendendo praticamente nel tutorial diceva che l'aria il fuoco sostanzialmente brucia ossigeno e legna insieme però tu hai il legno in mezzo e l'aria che esce praticamente sui lati del legno e come vedete ha preso bene da tutti e due lati cercate sempre di evitare di prendere prodotti chimici per accendere il fuoco anche perché ripeto la bitulla è uno spettacolo poi noi abbiamo sempre due pigne no mo sei in controluce però c'è un tramonto spettacolare un tramonto spettacolare sarò nero però almeno ragazzi vi godete il tramonto e abbiamo due pigne grosse per emergenza quelle ci restano sono spagnole sono spagnole quindi ce ne portiamo dalla Spagna la bitulla brucia veramente bene vedi sta prendendo anche quello lì grosso adesso ok che bello però ditemi quello che volete faticosa sta vita perché è faticosa ragazzi però tanta roba adesso che abbiamo preso la nostra quadra che difficoltà ci sono non è una vita facile ragazzi e per noi tra virgolette che vediamo da una vita borghese forse lo è ancora più difficile che gli altri che magari abbiano siano già abituati ci hanno rotto il cazzo che non ci siano neanche potuti lavare in santa pace ma si chiudono ho detto ma andate all'affancio ho detto che la moglie è matta però il senso del discorso è quello cioè si va in natura si va e poi dopo ci si chiude dentro cioè vivi la sta natura noi va bene siamo obbligati non abbiamo alternative oppure potremmo farlo perché basterebbe aprire il tendalino montare le pareti ci chiudiamo dentro però non è senso non ha senso andare in natura e poi dopo chiudersi dentro però ognuno è libero di fare quello che vuole su quello non si discute fuoco acceso next step next step ecco adesso una volta che ha preso allora lo alimentate bene lo alimentate bene che adesso lui ha fame adesso lui ha fame e gli dati da mangiare assomiglia a qualcuno eh assomiglia a qualcuno cioè che ha fame e gli dati da mangiare e beh ragazzi quando avete fame l'unica alternativa l'unica soluzione è mangiare sì non c'è rimasta tantissima legna però per per farci una bigliatina poi domani bisognerà trovarla e dove? in Svezia allora in Svezia per esempio per strada trovavamo trovavamo delle pigne enormi di legna e se capitava ci prendevamo un pezzo da un paio di metri ce lo tagliavamo poi se avanzava lo lasciavamo anche nei rifugi che incontravamo per strada qui non lo so sinceramente anche perché non me lo ricordo non me lo ricordo tuo amore te lo ricordi se trovavamo per strada no non ce n'è legna qui non ce n'è legna l'unica cosa lo trovi nei rifugi nei rifugi nei rifugi fra qua ce ne sono teoricamente due però hai visto che ci sono solo tronconi enormi eh sì ecco quello è un altro problema qui per esempio la legna c'era ma erano dei tronchi enormi mentre nella location fantastica vi metto il video qui sopra in tendina mi hanno lasciato il come si chiama il la accetta quella grossa quindi ho avuto la possibilità di tagliarmi di tagliarmi la legna io con questa la piccolina quei tronconi grossi non ce la faccio a spaccarli e quindi ho dovuto desistere però vediamo cosa troviamo ragazzi per noi il fuoco è diventato una cosa da routine ne amore si se non fa fumo che la legna è bella secca si se no lo maledici perché ti sta affumicando tutto stasera ci spariamo anche due belle pannocchie eh la griglia con un pochino di burro salato di burro salato perché questo burro è svedese e quindi si burro salato pannocchie alla griglia che le abbiamo scoperte quando? quando è che le hai fatte la prima volta? oh amo io non ti ricordi? a me piaceranno molto le pannocchie però lei le faceva in padella col burro ne? si si le facevo bollite e poi le mettevo le mettevo su un goccino di burro invece le abbiamo fatte non mi ricordo un paio di mesi fa ah si alla griglia dici tu? si si alla griglia le abbiamo fatte non molti mesi fa forse un mese e mezzo fa si un mese e mezzo fa un paio di mesi fa ed erano veramente veramente buonissime e quindi ce le stiamo rifacendo stasera va così e io direi di chiudere il video qua ti facciamo la nostra vigliata eh dopo ce ne andiamo a letto e va bene se il video vi è piaciuto mettete un bel vi piace se non vi è piaciuto come sempre non possiamo farci nulla e detto questo iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo che ogni volta che pubblichiamo video nuovo vi arriva la notifica è molto importante perché a volte la gente non sa che iscriversi è gratuito ma si paga no è gratis basta scrivere iscriviti e vi siete iscritti un abbraccio di cuore dal Frank ciao dalla Shura Moira le gatte già dormono e le due pannocchie che tra poco ci mangiamo